Ciao, sono Leonardo Raso della LR Immobiliare. Oggi vi presento un bellissimo appartamento a Roma, zona Casal del Marmo, esattamente in via Re Francore. Siamo in una palazzina in cortina di soli due piani, senza servizio di portineria e senza ascensore. Grazie a tutti. L'appartamento si trova in perfetto stato di conservazione ed è composto da un ingresso, un soggiorno singolo, un'ampia sala da pranzo con cucina a vista, un comodo ripostiglio con due accessi separati, un disimpegno, un bagno con finestra, due ampie camere matrimoniali, delle quali una dotato di bagno in camera. Sono presenti due balconi, uno che serve la sala da pranzo e cucina e l'altro più grande, al quale è possibile accedere sia dal soggiorno sia da una delle camere da letto. L'immobile ha una tripla esposizione est-sud-ovest che risulta molto luminoso e silenzioso. Abbiamo visitato un bellissimo appartamento a Roma, zona boccea Casal del Barbo. In particolare l'immobile risulta in perfetto stato, essendo stato completamente ristrutturato di recente. è dotato di porta blindata, grate antintrusione, zanzaliere, serrande elettriche ed aria condizionata. Inoltre è termoautonomo con caldaia alimentata a gas. Non ci sono spese condominali e la rendita catastale è pari a 813,42 euro. L'immobile è di categoria catastale A2. Per vedere foto, video e planimetrie di questo bellissimo appartamento potete visitare il nostro sito www.lrimmobiliarieroma.it o visitare tutti i nostri canali social. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani. www.lrimmobiliario.it